oggi parliamo del topolino 33 93 iniziamo amici bentornati sul canale bentornati sul recenso la video rubrica di libri fumetti manga film e telefilm come ormai ogni lunedì parliamo del topolino 33 93 che è arrivato con una settimana e mezzo di ritardo per cui sarò molto breve e molto veloce perché altrimenti lunedì non arriva sul canale parliamo quindi prima delle storie la prima storia che troviamo è zio paperone il risparmio a 360 gradi vediamo ancora una volta sfidarsi paperone e rocker duck e questa volta nel palazzo dei ricconi di paperopoli la sfida si svolgerà su cinque prove la cosa interessante di questo episodio è il fatto che queste cinque prove siano una diversa dall'altra in realtà sono molto tradizionali però il modo con il quale vengono create e con il quale si approcciano i personaggi per poterle superare è molto divertente anche se il finale non è appunto originale ma ben conosciuto ben prevedibile è comunque molto interessante vedere come i personaggi si approcciano alla sfida e come danno quindi sia il meglio che il peggio di sé agenzia investigativa pipperton e soci lo strano caso dello smemorato prendiamo in questa storia o meglio per questa storia i personaggi principali del mondo disney quindi troviamo pippo topolino minni e orazio e li estrapoliamo da tutto quello che abbiamo sinora conosciuto della loro storia del loro background perché in questa storia non si conoscono non hanno conoscenza l'uno dell'altro e sono praticamente al di fuori del loro contesto originario pippo o meglio questo ser pipperton decide di dedicarsi all'investigazione e di avere con sé al suo fianco dei soci è così che quindi orazio viene messo praticamente da parte quasi subito e al suo posto fanno la loro comparsa topolino minni e l'ultimo arrivato pluto devono così iniziare il loro lavoro e lo fanno con un caso che è appunto il caso dello smemorato la storia ha un particolare anche in questo caso seppur il pretesto narrativo sia molto tranquillo il tipo di narrazione ci trasporta indietro nel tempo e il fatto che possiamo vedere i personaggi estrapolati e tirati via dal contesto che ci è noto e quindi messi in un contesto nuovo con storie nuove è molto interessante da vedere ha una freschezza quindi questa storia nonostante il ritmo così cadenzato e tranquillo che mi ha sorpreso x music 2020 sesto episodio quello che serve ormai in questo dietro le quinte prende piede sempre più l'opera stravolgente di paperoga questa volta segue i vip e il vip di turno io non sono riuscito a identificarlo perché pensa sempre di poter insegnare qualcosa e sarà proprio prima ancora della fine di questo piccolissimo episodio che arriverà alla morale finale però prima ancora che l'episodio finisca e questa cosa spingerà qua che è presente nel dietro le quinte a rivedere la posizione della sua band il modo con il quale strutturata e a rinnovarla proprio forse a partire dal nome quindi seppur nella sua brevità almeno questa volta la storia riesce a lanciare un sassolino su quello che già abbiamo visto prospettandoci forse un cambiamento futuro per i personaggi classici e le loro storie newton e pico in viaggio nel sapere una lezione multigusto poiché appunto newton pitagorico è stato affidato all'istruzione di pico dei paperis questo dotto papero sceglie la strada un po più socratica per insegnare al giovane discente e così quindi che lo porta in giro per paperopoli a gustare un gelato e attraverso proprio il gelato mostrargli come e cosa si perde quando decide di non studiare tutto ma solo quello che gli interessa questo fare così bonario così attento e pedagogico alla crescita e all'istruzione di questo personaggio è molto interessante perché mostra anche come il lato come abbiamo visto nella puntata precedente anziano barboso dello studiare e quindi del pensiero a dispetto del fare abbia comunque dei risvolti positivi e mi ha ricordato tanto una rievocazione storica dell'antica grecia e di come i sapienti si riunivano e iniziarono a discutere nel discutere si istruivano l'un l'altro la cosa è molto interessante e anche piuttosto dinamica proprio grazie a questo botta e risposta tra i due personaggi topolino e l'idea ingombrante breve storia nella quale troviamo un forte senso ecologico e un'attenzione particolare quindi per il pianeta perché topolino viene aiutato da orazio nel buttare via una lavatrice che non funziona più da oggetto quindi che non vuole in casa e che deve essere assolutamente abbandonato nel rispetto ovviamente delle regole e dell'ambiente alla fine della vicenda questa lavatrice diventerà quasi un oggetto da contendersi mostrandoci come un qualcosa visto sotto un aspetto differente possa cambiare la nostra percezione dell'oggetto stesso storia molto breve ma molto delicata molto importante spero faccia breccia in molti di noi più o meno giovani paperino qui qua qua e la minaccia ghiacciata torna a paperopoli l'amico di qui qua qua fiocco figlio del re d'inverno sinceramente io però di questo personaggio non ne ho memoria di averlo incontrato nel passato ma si sa che la mia memoria su nomi e personaggi fa un po schifo però per fortuna le prime tavole e le prime vignette servono proprio a reintrodurlo e a scoprire come si sia conosciuti fiocco e i nostri tre paperotti in questa puntata quindi ritroviamo fiocco che va a trovare i suoi amici e allo stesso tempo la narrazione si sposta anche sui tentativi di amelia di impadronirsi della numero uno attraverso un nuovo incantesimo su cui mette le mani e man mano che la storia va avanti in questa prima parte è anche abbastanza organica il saltare da una scena all'altra da una narrazione all'altra è molto interessante anche molto maturo per come viene trattato il problema lo riscontriamo quando arrivati sul pianeta natale di fiocco vengono introdotti tutta una serie di personaggi la narrazione inizia a scorrere talmente velocemente che iniziamo a perderci in un mare di chiacchiere in un mare di tavole e quindi la cosa inizia a diventare troppo frettolosa per arrivare a un finale forse un po troppo stucchevole però tipicamente di carattere disneyano nella prima puntata abbiamo visto che la storia è di arrighini e il disegno è di faccini e fa proprio strano vedere faccini impegnato in una storia che non è breve ma anzi è abbastanza lunghetta devo dire la verità sono rimasto forse un po turbato da questa cosa da come è risultato il disegno perché alcune vignette ci presentano dei personaggi che all'improvviso si appiattiscono perdono un po quella linea morbida che caratterizza lo stile di faccini e soprattutto quasi deforma le espressioni dei personaggi però in generale lo stile rimane sempre quello tipico di questo disegnatore che nella rosa disneyana ha una personalità incredibile perché appunto con la linea così ben modulata e sottile rappresenta i personaggi con proporzioni ancora più quadrate e linee molto più tondeggianti e pacioccose su questo quindi non ho niente da ridire così come è strana la storia di piperton così lo è anche il disegno un disegno che però non è strano nell'accezione di brutto ma strano perché interessante è un disegno che nel modo con il quale viene disegnato la linea viene presentata ha sicuramente degli amicchi a un qualcosa di moderno soprattutto anche nel modo con il quale le vignette vengono costruite e i personaggi vengono posti nelle scene però sicuramente ha una base molto tradizionale proprio per come sono fatti i personaggi e per il fatto che le proporzioni sono mantenute appunto seguendo il classicismo della disney particolare anche per il fatto che i personaggi principali soprattutto topolino e minni inizialmente sembrano un po più deformi nelle espressioni un po lontani dai loro canoni abituali anche se però tutto il resto dei personaggi accessori sono molto più ben caratterizzati quasi come se due mondi diversi si stessero scontrando l'uno con l'altro ovviamente per quanto riguarda x music il disegno non cambia colpa mia che non riesco a capire chi sia el paperon nel senso a quale vip reale faccia riferimento perché sembra poco caratterizzato non vedo nulla che riesca ad agganciarmi subito al personaggio reale ma è anche vero che io sono fermo la musica classica quindi tutto è possibile per quanto riguarda invece lo stile sappiamo che non sta cambiando assolutamente rimane sempre lo stesso per cui non voglio perdermi ulteriormente in chiacchiere sono settimane che vediamo sempre lo stesso disegno quindi andiamo avanti anche in pico e newton non cambia praticamente nulla se non che vengono forse dati più spazi all'indagine visiva e grafica delle espressioni di pico dei paperis che risalta tantissimo dalle vignette soprattutto quelle là a sfondo bianco mostrandoci come con queste linee così morbide e modulari riescano a esaltare i volumi e quindi a far uscire fuori dal foglio i personaggi in tutta la loro bellezza già solo per questo quindi è uno spettacolo di disegno riuscito benissimo mi è molto piaciuto invece il disegno sulla storia del riciclo perché è molto classico sia nelle impostazioni delle immagini quindi delle vignette all'interno delle tavole ma soprattutto anche dei personaggi all'interno delle vignette quindi della costruzione della scena troviamo una linea che non gioca molto sugli spessori ma allo stesso tempo riesce comunque a sottolineare i volumi dei personaggi e a renderli in quella loro bellezza tradizionale che non gioca quindi sul suo spessore per distinguere la profondità di campo ma gioca più sul colore che va quindi a perdere in saturazione man mano che ci allontaniamo dai primi piani meravigliosa l'ultima vignetta molto molto particolare il disegno dell'ultima storia quella sull'amico fiocco trovo che sia spettacolare mi è piaciuta particolarmente anche se abbiamo visto che a lungo andare nella narrazione perde lo spazio e quindi quasi perde il tempo di delinearsi come la linea classica che abbiamo visto sino a quel momento e proprio perché la narrazione viene affrettata e vengono inseriti una serie di personaggi uno dietro l'altro e di ambientazioni nuove sembra quasi diventare molto riassuntiva perde le sue caratteristiche e delinea questi ambienti e questi personaggi con linee molto essenziali e minimaliste però il fatto che si siano scelti già i toni freddi dell'inverno al di là della caratterizzazione del personaggio mi fa ben sperare perché ormai siamo in dirittura del natale quindi l'inverno è ormai alle porte e il risultato mi è piaciuto veramente molto questo ovviamente è quello che io penso di questo volume del topolino vi aspetto nei commenti qui sotto fatemi sapere voi cosa ne pensate quali sono le storie che vi sono piaciute e soprattutto visto che è un po il mio ambiente quali sono i disegni che vi sono più piaciuti io spero vivamente che smettano di consegnarmeli in ritardo altrimenti diventerà sempre più difficile mantenere la costanza sulla pubblicazione ma questo è un altro paio di maniche voi potete però aiutarmi a crescere e a migliorare oltre a dirmi la vostra mettendo un bel mi piace a questa puntata condividendola con i vostri amici e se ancora non siete iscritti al canale iscrivendovi cliccando il pulsante qui sotto e attivando la campanella allato per ricevere le notifiche perché appunto l'unico modo con il quale seguirmi e aiutarmi in questa costante crescita che è dovuta solo grazie a voi vi ringrazio quindi per la visualizzazione mi trovate in tutti i social network che vi lascio qui sotto nell'info box ma fate visita soprattutto a www.retrattinocenso.it e iscrivetevi nei gruppi facebook e telegram il salotto dei recenziali io sono Dario questa è il recenso e noi ci vediamo lunedì prossimo con una prossima puntata sempre qui sempre su recenso pronti a sfogliare nuove storie e volare insieme nel mondo della fantasia disney ciao